Le chiedo, quel termine è stato rispettato, il 16 ottobre siamo tranquilli e soprattutto siamo tranquilli per tutto l'anno, altrimenti alla seconda volta è due... Siamo tranquilli per tutto l'anno, sì, quindi ottobre a posto, perfetto, grazie. Più di questo non puoi posso dire. La ternana in sicurezza, almeno fino al termine della stagione, punta al massimo risultato. La parolina non si dice per scaramanzia, ma è facile intuire sia la seconda lettera dell'alfabeto. Per inciso, la squadra a gennaio non si tocca, almeno per ragioni economiche. Si è presentato così Stefano D'Alessandro nella sua prima conferenza stampa da nuovo presidente della ternana. C'è lui e soltanto lui, rispondendo così anche alla richiesta di chiarimenti avanzata dal sindaco Bandecchi, distinguendo partner commerciali e soci due cose diverse. L'unico altro socio potrebbe essere un domani suo fratello Maurizio, che al momento preferisce restare defilato. Anche se c'era pure lui alla prima attesissima conferenza stampa, rimandata per sistemare le pendenze economiche che costeranno due punti di penalizzazione, ma D'Alessandro confida di poter vederla ridotta a un solo punto. Per il resto, dice il presidente, dimostrerò col tempo la mia solidità economica. E sul direttore generale Foresti, lasciato andare senza troppi complimenti, un ringraziamento per la squadra costruita, ma dura l'ex sed l'ex del calcio, si intende, una società nuova arriva e sceglie i propri uomini. La figura del direttore generale sarà di fatto assorbita dallo stesso D'Alessandro, mentre per quanto riguarda il direttore operativo gestionale Giuseppe Daniello, che era stato esonerato da guida, conosce a meno i conti della Ternana, l'aspetto finanziario è il più delicato e quindi ripartire da zero con un'altra figura sarebbe stato poco intelligente. E poi c'è Stadio Clinica, il vero motivo per cui D'Alessandro si è deciso a muovere il grande passo. Un crocevia importante, ha detto, con mandato affidato all'avvocato Stefano Vinti per fare le verifiche del caso, relazionare a breve, già la prossima settimana, per andare al tavolo con istituzioni e il comune e quindi ritrovare anche il sindaco Bandecchi e le sue perplessità, chissà se nel frattempo svanite. Altre persone in società, l'unica che spero entri è mio fratello Maurizio, ha ripetuto da Alessandro, che poi sempre su Stadio Clinica ha chiosato «Non faccio il costruttore, avrò dei partner che mi accompagneranno nella costruzione dello stadio». Insomma, le carte sono sul tavolo, più o meno tutte. Qualcuna coperta rimane, ma sarà il tempo a svelarla. Intanto le prime risposte su idee, progetti, iniziative per il centenario, l'addio a Foresti, soci barra partner, sono state date. Adesso tocca la squadra, finalmente si torna a parlare di campo. La società è messa in sicurezza. Punto.